Ispezione della Guardia delle Finanze della Procura sul viadotto di Sori nell'ambito dell'inchiesta sui report sulla salute delle opere. Casa Giannelli, nuova protesta dei dipendenti è la seconda dopo quella del 14 ottobre scorso dei lavoratori della società che gestisce la casa di riposo delle Giannelline a mare a Chiavari. Fusione ATP-AMT ci sono margini domani a sembra dei soci per un aumento di capitale di ATP ma si spera anche di annullare la cessione di quote ad autoguidovie. Buonasera dal TGT Guglio, Ispezione della Guardia di Finanza e della Procura sul viadotto di Sori della A12 nell'ambito dell'inchiesta sui report sulla salute delle opere. Una ispezione è stata fatta sul viadotto autostradale di Sori della A12 tra Recco e Genova Nevi da parte della Guardia di Finanza e dei consulenti della Procura. Il blitz è scattato nell'ambito dell'inchiesta sui report ammorbiditi da parti di Spea e Aspi sul reale stato di salute delle infrastrutture gestite dalla società. I militari e i tecnici hanno ispezionato tutta la struttura, entrandovi anche all'interno nei cassoni e sovvolando l'area con l'elicottero. Introdottosi nei cassoni sottostanti la careggiata, ai quali non risultano ispezioni eseguite dopo il 2013, i tecnici avrebbero infatti riscontrato significative infiltrazioni di acqua. Recentemente, a seguito delle prime risultanze delle indagini, Autostrade per l'Italia aveva revocato l'incarico di queste operazioni alla società controllata Spea, della quale risultano indagati diversi dirigenti, sebbene il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la richiesta di arresto nei confronti di 5. Sarà nuovamente mobilitazione pubblica per i dipendenti della cooperativa Gianellin Rete che lavorano nella casa Gianelli di Chiavari destinata alla liquidazione. I dipendenti presenteranno un nuovo presidio domani, venerdì 25 ottobre, dalle 10 a mezzogiorno in largo, Ravenna. È la seconda protesta, dopo quella del 14 ottobre scorso, dei lavoratori della società che gestisce la casa di riposo delle Giannelline a mare. Le richieste sono sempre le stesse di entrare delle due mensilità retrate non ricevute e soprattutto che all'attività venga garantita una prospettiva importante e sicura favorendo il subentro di un soggetto del settore che tra l'altro qualche giorno fa sembrava anche concretizzarsi. Adesso parliamo invece di una fusione che ha avuto una frenata ma che potrebbe ancora avere margini, vale a dire quella tra ATP e MT, almeno questo secondo il sindaco metropolitano Marco Bucci. Resta valido l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali. Addirlo agli stessi sindacati, il sindaco metropolitano Marco Bucci, nell'incontro convocato dopo l'opposizione del socio privato di ATP esercizio alla procedura proposta dalla sua amministrazione per la fusione tra ATP e AMT. Si punta dunque ad un aumento di capitali di ATP esercizio SRL per raggiungere l'obiettivo di affidare il servizio ad un'azienda in house, riferiscono i rappresentanti dei lavoratori, che verrà proposto in assemblea dei soci già calendarizzata per venerdì a mezzogiorno e ad una azione legale per annullare la vecchia cessione di quote azionari di ATP SRL ad Autoguidovia SPA. Il motore della seranda automatica di un negozio che era rimasto bloccato durante l'operazione di chiusura ha preso fuoco. È successo ieri in un'attività commerciale di via Entella Chiaveri al civico 133 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari che hanno spento il principio di incendio. Fortunatamente non si sono registrati né danni a locale né intossicati. E adesso parliamo di politica. Ieri vi abbiamo parlato di due iniziative, una delle PD e dei giovani democratici del Tiguglio, l'altra della Lega. Ebbè c'è un botta e risposta proprio nella città dei due mari tra PD e della Lega. Vediamo di capire il perché. La campagna elettorale per le regionali è partita in particolar modo a Sestri dove Lega e PD si stuzzicano. Il Partito Democratico e i giovani democratici del Tiguglio hanno lanciato la campagna Riaccendiamola criticando i cinque anni di amministrazione regionale di Giovanni Totti. Domani la Lega terra proprio a Sestri e all'ex convento dell'Annunziata i propri stati generali e dunque la risposta della carroccia al PD non si è fatta attendere. Partendo dalla sanità, in dieci anni di gestione burlando non si è mai pensato di fornire e ristrutturare gli ospedali della nostra regione, dicono Davide Micheli, commissario della sezione della Lega di Chiavari, Nicola Sfada, responsabile organizzativo della Lega a Chiavari e Albino Armanino, commissario della sezione della Lega a Sestri, i quali invece sulle opere citano il Ponte Morandi che sarà restituito alla Liguria la prossima primavera. Cosa mai successa in Italia? Per quanto riguarda il futuro, concludono i leghisti, la Liguria è tra le sette regioni di punta riguardo l'innovazione tecnologica e l'evoluzione digitale delle imprese. Cronaca ai carabinieri di Lavagna a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria hanno tratto in arresto un 35enne di nazionalità albanese con precedenti di polizia già sottoposta agli arresti domiciliari, condannato a 4 anni di reclusione per rapina aggravata, resistenza pubblico ufficiale e violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo si trova attualmente nel cacere di Chiavari. Chiamo a Santa Margherita Ligure, pulizia di tombini e caditoie potenziata nella cittadina sanmargheritese. La prudenza non è mai troppa quando si parla di prevenzione del rischio idrogeologico. E così il comune di Santa Margherita Ligure, visto il periodo, mette in campo una serie di interventi di manutenzione ordinaria, oltre alla pulizia dei torrenti e dei rivi cittadini, e si intensifica la pulizia di tombini e caditoie sulle strade cittadine per favorire il deflusso delle acque piovane. Mai abbassare la guardia, spiega il vice sindaco con delega alla protezione civile Emanuele Cozio. Purtroppo, soprattutto in questo periodo, assistiamo a fenomeni che si possono sì prevedere, ma che sono allo stesso tempo imprevedibili nelle loro conseguenze. L'impegno del comune di Santa Margherita Ligure su questo fronte è costante e quotidiano. Pertanto, tutto quello che possiamo fare per ridurre potenziali rischi o pericoli risulta importante e utile. A parola al cinema, il film è realizzato da ragazzi della scuola media nell'area Alpi di Chiaveri con il ciclo del cinema L'Amaca Gioconda. La pellicola si intitola Il pianeta degli uomini, la proiezione si terrà dopodomani, sabato 26 ottobre alle 17.30, al cinema Mignone, che si trova in Carugio a Chiaveri. Il progetto, partito con la convenzione promossa dal comune di Chiaveri, si era giudicato un finanziamento da 38.000 euro del MIUR e del MIBCAT. A coordinare i lavori è stato il professor Danilo Cubeddu e sono stati coinvolti circa 40 ragazzi come attori e musicisti. Davide Romanini ha realizzato le riprese, Alessandro Corvaglia ha accompagnato i ragazzi della colonna sonora e Michele Resi è la voce fuori campo del film. Torniamo a Sestri per parlare del Festival del Turismo Responsabile. Dal primo al 3 novembre, per la prima volta, Sestri Levante sarà tappa di ITH, il Festival del Turismo Responsabile ideato nel 2009 da tre associazioni della cooperazione internazionale con sede a Bologna, Ioda, Cospe e Nexus Emilia Romagna. La sostenibilità è un tema trasversale che unisce tutti gli ambiti di lavoro con cui un'amministrazione comunale si confronta, afferma il sindaco Valentina Ghio. Per Sestri la relazione tra sostenibilità e politica turistica è particolarmente importante perché il turismo è un ambito economico di punta per la nostra città e perché la sostenibilità è il motore delle azioni che come amministrazione portiamo avanti. Ho conosciuto la realtà di Itacalo scorso gennaio, dice Marcello Massuco di Mediaterraneo Servizi. Fin da subito le nostre concezioni di turismo si sono incontrate declinandosi su come effettivamente portare il Festival a Sestri. Nel programma dei tre giorni figurano passeggiate, percorsi nell'entroterra, degustazioni e anche una visita alle botteghe storiche cittadine. Una visita della regione appunto per questa realtà importante per Lavagna. Sì, ne siamo davvero onorati, siamo felici che le istituzioni oggi siano qui presenti, il presidente Totti e l'assessore Cavu, per i nostri ragazzi, segno e testimonianza dell'attenzione che viene posta nel loro percorso di studi e di formazione professionale. Per loro è un momento importante, è anche un momento di crescita, sapere che delle istituzioni lavorano per il loro futuro. Hanno più volte sottolineato il fatto che credono molto a questa realtà. Sì, noi stiamo cercando di lavorare davvero con tutto il territorio, questo è l'elemento che ci ha caratterizzato nella pianificazione e programmazione delle attività. Abbiamo coinvolto abbiamo il supporto che ringrazio di moltissime aziende, diverse associazioni, alcune addirittura fanno anche parte del societario come Confindustria Ugar, altre si sono aggiunte del comitato di indirizzo Liguria Together, Portofino Coste, Leone Consulting, il comune di Lavagna perché abbiamo sottolineato stamattina come sia importante mettere insieme territorio, imprese per dare un futuro concreto ai ragazzi e che possano vedere che davvero per loro c'è un futuro lavorativo e quindi un futuro di vita. Noi abbiamo fatto una visita oggi all'Accademia del Turismo per incontrare i ragazzi, toccare con mano i corsi che sono attivi, avendo ben presente ovviamente questa struttura attiva a livello di corsi per i ragazzi, ovviamente tutti sostenuti dal finanziamento di Regione Liguria che mette a bando nei vari livelli di età e di formazione le risorse e che devo dire questa struttura recepisce in maniera importante perché presenta progetti che poi riescono a superare le varie chiamate dei bandi e quindi vuol dire che sono progetti vincenti e che lo siano lo dicono i numeri perché noi qui abbiamo attivato i triennali della ristorazione, abbiamo tre corsi triennali attivi che sono i corsi per i ragazzi in età dell'obbligo che hanno uno sbocco alla fine di oltre l'80%, vuol dire che quasi tutti i ragazzi alla fine del corso o riprendono un percorso di studi o vanno a lavorare ed è un dato importante. Poi abbiamo i quarti anni perché questo centro è riuscito ad attivare i quarti anni, non è facile il meccanismo per fare la classe nel quarto anno ma loro ci sono riusciti e il quarto anno è quello che accompagna poi i ragazzi nel mondo del lavoro in maniera più consistente. Poi questo centro ha attivato diversi corsi rispondendo i bandi settoriali emanati da Regione Liguria, il bando della Blue Economy e qui abbiamo avuto un corso di Hostess che ha avuto un'occupazione di oltre l'80% e abbiamo avuto due corsi del turismo, il cuoco e il barman che stanno avendo dei risultati occupazionali, sono già terminati tra il 60 e l'80%, sono numeri importanti, vuol dire che il tessuto c'è, vuol dire che questa accademia funziona perché fa progetti avendo in pancia al suo interno già le aziende, aziende vuol dire confindustria, vuol dire gli albergatori, vuol dire tutti coloro che sono all'interno proprio della compagine di questa accademia e questa è la ricetta vincente. È chiaro che si è creata la filiera che va da tutte le età, dai 14 anni fino ad abbracciare tutti diciamo la parte della popolazione fino ai 30 anni, sostanzialmente gli under 29. A breve Regione Liguria emenerà un nuovo bando per del pacchetto giovani, un totale di 8 milioni di euro a cui l'accademia potrà attingere. Per completare la filiera, ma questo lo dico ovviamente a livello generale, una visita qua e percepire, capire la forza di un ente come questo non può che rafforzare l'idea di pensare a dei corsi ITS, quindi di specializzazione post diploma in campo turistico, che è il tassello che vogliamo mettere per completare l'offerta ITS di questa Regione. Io credo che sia stata una visita costruttiva, vedere i ragazzi pronti, determinati è sempre importante, da sempre delle grandi suggestioni e suggerimenti. Quello che abbiamo detto ai ragazzi è che stanno facendo percorsi di formazione di serie A. La formazione professionale non è serie B, lo diciamo da 4 anni, lo dimostriamo con gli investimenti che stiamo mettendo in questo sistema, lo dicono i numeri e lo dice anche, permettetemi, l'aver deciso tutti insieme di dedicare il Salone Orientamenti al Saper Fare. Quindi io ho invitato i ragazzi a venire al Salone, a farsi anche loro ambasciatori presso altri giovani che vogliono scegliere questi percorsi. Il Saper Fare è sempre più importante, lo dice il mercato, lo dicono i numeri e quindi l'invito a tutti dopo questa visita è dal 12 al 14 novembre Salone Orientamenti, pensato per i giovani ma pensato anche per gli insegnanti, per i centri e soprattutto per le famiglie che poi devono accompagnare i giovani nelle scelte. Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo polo sociosanitario che ospiterà sia la Croce Verde di Casarza Ligure che è qui a fianco, che svolge un servizio indispensabile per la nostra comunità e avremo anche uno spazio, un polo sociosanitario a disposizione di tutti i cittadini, non solo di Casarza ma dell'intero comprensorio. Abbiamo infatti fatto già incontri con la dottoressa Rebagliati che è la dirigente dell'AS4 Chiavarese che ha dato la piena disponibilità per realizzare un punto di primo prelievo e non solo, anche un punto infermieristico che consentirà quindi a tutti gli abitanti non solo di Casarza ma della Val Petronio e anche della Val di Vara di avere un luogo per poter usufruire di questo servizio. Per noi è un'occasione molto importante e voglio anche utilizzare questo spazio per dire che c'è in corso una raccolta fondi da parte della Croce Verde di Casarza Ligure per l'acquisto di un'ambulanza, siamo molto vicini al traguardo e quindi invito tutti coloro che hanno questa buona volontà, questa buona azione che vogliono fare a rivolgersi presso la Croce Verde di Casarza Ligure per poter fare una donazione. Il nostro sogno è inaugurare questa nuova sede, questo nuovo polo socio-sanitario e la nuova ambulanza. Sarebbe un sogno, era nel nostro programma, è un'esigenza per il nostro comprensorio. Io ormai sono 17 anni su questo territorio che sono di Sestri Levante e ho avuto tante tante conferme che la Croce Verde a Casarza serve, siamo benvoluti da tutti, soprattutto con la raccolta fondi per la nuova ambulanza ci ha gratificato veramente tanto, ringrazio l'amministrazione che ci sono state vicine, si hanno sostenuto in tutto questo tempo. Invito i cittadini di Casarza a farsi più presenti come volontari, anche un'ora alla settimana a noi va bene, quindi più numerosi siamo, più gruppo facciamo, facciamo aggregazione. Previsioni per domani, venerdì 25 ottobre. Residuo a nuvolosità ad inizio giornata, in rapido diradamento già dalla tarda mattinata, precipitazioni assenti, vento debole o moderato da nord-est, mare poco mosso sotto costa, mosso o localmente molto mosso a largo. Le temperature previste, sulla costa tra 16 e 24 gradi, nell'entotera tra 13 e 22 gradi.